Ciao, siamo Luigi e Giussi e abbiamo scelto i Senzatempo per il nostro matrimonio come intrattenimento. Allora, abbiamo scelto loro perché, avendo fatto la consulenza con un paio di gruppi prima di loro, non eravamo del tutto soddisfatti di quello che ci offrivano. Poi, avendo fatto il colloquio con Giovanni di Senzatempo, infatti ci ha convinto subito, già dalle prime parole, il motivo principale per cui li abbiamo scelti è stato proprio per questo, per la minuziosità del loro lavoro e che hanno preparato il nostro matrimonio veramente in una maniera impeccabile. Anche ogni messaggio che gli mandavamo è stato molto disponibile, rispondeva subito, molto disponibile su ogni messaggio che gli mandavamo, ogni domanda che avevamo. Avevamo un po' di dubbi sugli altri gruppi che avevamo precedentemente contattato, perché dopo aver parlato con Giovanni ci siamo accorti che non offrivano la stessa qualità di servizio, del servizio che ci hanno proposto. Già dal primo giorno che abbiamo parlato con Giovanni ci siamo accorti la grande differenza che c'era tra loro e gli altri gruppi precedentemente contattati. Nonostante loro fanno di cosenza, noi ci siamo sposati praticamente vicino a Reggio Calabria, che non hanno neanche avuto problemi per la distanza, sono comunque molto disponibili su orario e passato. Consigliamo i senza tempo, senza ombra di dubbio, per la loro disponibilità, per la loro efficienza e per il servizio che ci hanno proposto. Scegliete i senza tempo live. Grazie. Grazie a tutti